dove sei qui? questo? ok su ok su vedi adesso faccio anche qui Non ecco il piede, bene, ecco il piede, bene, ecco il piede, ecco il piede, ok, così, ecco il piede, ok, attento a questo, questo qui non esiste, non c'è, qua non esce fuori niente, ok, questo è un modo di avere una misura di avere un concetto di muovere le due braccia perché sono unite, ok, se tu colpisca di no, di dorso, di martello, di avambraccio, interno, esterno, di gomito, non importa, tu stai usando adesso un concetto, un concetto, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, abituato a un single hip, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè quello che viene a colpire qua dovessi intercettarlo con le avambraccio, adesso lo tieni così. 1, 2, 3, 2, 3. stoffere 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 non sono scoperto non è un po' uh ecc Poi passano tutti i piccoli